Mezzanotte dell'11 luglio è il Prime Day e lo è anche per i camperisti. Assolutamente sì, oggi abbiamo una puntata particolare dedicata proprio a questo evento. Chi ci segue lo sa che noi non facciamo appuntamenti diversi dal giovedì alle 18.30 e appunto il modo migliore per non perdervi nessun appuntamento è proprio quello di iscrivervi attivando la campanella delle notifiche e quindi eccoci qui. E sì, infatti proprio per chi è scritto e che ha attivato la campanella avrà ricevuto la notifica. Per gli altri ecco, è un invito a farlo per non perdere contenuti di questo tipo. Abbiamo fatto questa cosa un po' eccezionale diciamo perché il nostro canale Telegram è sempre molto gettonato. È sul pezzo sempre, sulle offerte. Esatto, ricordiamo pertanto il canale delle offerte che si chiama Offerte per camperisti vedete qui un'anteprima del nostro canale dove noi segnaliamo tutto quello che è utile per la vita del camper ma sempre con un occhio al prezzo. Pertanto non abbiamo voluto risparmiarci questo periodo per cui cominceremo queste 48 ore un pochino martellanti no? Sì. Di tante offerte. In particolare abbiamo qualche anticipazione, qualche cosa la metteremo qui sotto in descrizione del video. Altre cose invece ovviamente le trovate proprio sul canale ed è proprio lì che dovete andarle a prendere. E quindi quali sono le offerte che troverete? Sicuramente ci sarà a Toto che appunto... Attraverso i suoi canali social tra l'altro ha fatto già da qualche giorno, ha fatto sapere che ci saranno delle offerte. E quindi sicuramente... Senza svelare, senza scogliare ma ci saranno. No, le troveremo. Tra l'altro prodotti a Toto che da sempre sono molto gettonati, ne abbiamo parlato per volte, magari metteremo qui qualche link a qualche video o anche in descrizione per andarvela a riprendere. Ma se ci stavate pensando, questo probabilmente è il periodo adatto. Ma anche Brunner tirerà fuori tantissime offerte, come spesso fa appunto in queste occasioni. Esatto, ricordiamolo, Brunner è chiunque ha a che fare col mondo del camper, del campeggio, delle roulotte. È una galanzia, lo sappiamo. Per tutto ciò che riguarda tavoli, sedie, melamina per la tavola, popot, stuoglie, insomma chi più ne ha più ne metta. E ci saranno veramente anche tante tante cosine interessanti da non perdere, ma veramente tante. E poi, come non menzionare, Crocs che da sempre è la ciabatta del camperista. Non chiamiamo la ciabatta, oramai è proprio una vera calzatura. Sì, è una calzatura, esatto, una calzatura, perdonatemi, del camperista che è proprio comoda in tutto e per tutto, cioè è confortevole e utilissima per tutte le occasioni. Che è solo una questione statistica, può piacere o non piacere, ma guardate i piedi dei camperisti di tutta età. Ce l'hanno tutti e un motivo ci sarà. E infatti ci saranno anche per i misure per bambini, per cui tante offerte anche lì. E poi ci saranno camping guts con zaini e borse termici, per cui utili per questo periodo dell'anno. Come vedete anche da una fronte, abbastanza caldi. Sì, sì, sì. Anche per i fornelli. Assolutamente, siamo assoluti famosi. Assolutamente, ci saranno tantissimi prodotti. Ma ci sarà anche ferrino, come sappiamo, storico nel mondo del campeggio. Ci saranno zaini, cose anche per la montagna. Una cosa interessante. Perché come noi piace la montagna, è molto interessante, no? E poi ci sarà bluetti, che già a partire da giugno, dal 19, ha tirato fuori delle offerte, ma adesso ce ne saranno ancora di nuove, quindi vi raccomando, rimanete sintonizzati. Non perdetele. E ci sarà anche Insta360, in realtà è iniziato proprio oggi, nella giornata del 10 di luglio, per una settimana, proprio approfittando del Prime Day, che come sempre trascina un po' anche le aziende, nel loro sito ufficiale tirerà fuori tante offerte. Sono già visibili. Insta360, come avete potuto vedere, l'abbiamo scelta come strumento per raccontare i nostri viaggi dal punto di vista particolare. Metteremo anche in questo caso dei link per andarvela a rivedere. Anche qui gli sconti saranno da il 5% a salire su alcuni prodotti. E per tutti ci sarà il selfie stick in omaggio, che ricordiamo, nei prodotti delle telecamere, videocamere Insta360, il selfie stick è invisibile, per cui anche quando vi riprendete sembrerà che ci sia un drone che vi sta inquadrando. Ma anche il nostro merchandising andrà in sconto del 15%. Vi ricordiamo che l'avamo presentato nell'occasione del nostro secondo raduno, qui sopra vi rimettiamo il link e appunto faremo un 15% di sconto perché così potete approfittare sia per indossarlo voi, sia per fare un bel regalo. Un bel regalo, sì, perché magari un neocamperista o un camperista che diventa quarantenne, cinquantenne. Ma una festa di compleanno, festa di qualcuno, insomma, un regalo che non è niente male. Ma come dicevamo, sì, metteremo qui in descrizione il link, ma la cosa più importante è quella di iscriversi al canale Telegram. Ma questo perché? Perché molte offerte, esatto, perché molte offerte sono valide, non solo quel giorno lì, ma alcune volte anche hanno delle scadenze temporali, tipo entro una disponibilità limitata di pezzi, ecco, insomma, è importante. Ma anche perché comunque, tralasciando il discorso di questo evento promozionale, ci sono tante convenzioni, tanti scorsi che abbiamo acquisito nel tempo. Per esempio come c'è Agricamper Italia, come la tessera Vivi Parchi, due strumenti utili per fare l'approccio alla vacanza un po' diversi, ma comunque estremamente interessanti. Ma c'è anche Semiperdo, che è il braccialettino che aiuta appunto a non perdere i bambini. O perlomeno se si perdono per ritrovarli. A ritrovarli molto facilmente, così come anche Fookstech, che appunto noi abbiamo fatto tanti video riguardo ai loro carrelli, quindi vedete perché... Pio Pela Bici, insomma, per chi ha figli, cani e oggetti al seguito è sicuramente estremamente utile, ma ci sarà anche Midland, per cui abbiamo delle convenzioni, per cui ciclicamente ci sono degli oggetti sempre molto interessanti per la comunicazione. E ultimo, anche perché è l'ultimo acquisito, diciamo, oggi link per una connessione sempre al top. Sì, soprattutto il roaming, che era una cosa che era molto molto ricercata. Tutte queste le troverete all'interno del nostro canale Telegram. E la novità più recente di tutti è appunto due kit che abbiamo creato insieme a Mafra per quanto riguarda la pulizia del camper, quindi non ve la perdete perché è veramente... Il kit da interno e il kit da esterno, per cui quello da portarsi con sé e quello da lasciare a casa, anche quello con uno sconto speciale. E cosa fare se non avete Telegram e non lo usate? Nessun problema. A parte che lo potete sempre scaricare e registrarvi, è estremamente immediato, ma se no vi collegate a www.offertecamperisti.it, che è esattamente lo stesso nome del canale, nelle offerte dove trovate praticamente tutto quello che viene pubblicato anche sul canale con più uno spazio dedicato a quelle offerte fisse che sono frutto di convenzioni, coupon, sconto e c'è anche qualche parte particolare dedicata a eventi promozionali e concorsi. E se volete risparmiare anche per ciò che riguarda la famiglia in generale, non c'è nessun problema perché noi abbiamo offerte per la famiglia. Esatto, lo trovate sempre, saremo anche in questo caso il link in descrizione, dove troverete un po' di tutto. Quello che serve per noi lo condividiamo, per cui che possono essere dai saponi per le persone, detersivi, caffè, biscotti per la colazione, piccoli prodotti per la donomotica, la roba anche per la scuola, per cui penne, zaino, cancelleria in generale. Esatto, insomma, un po' di tutto. Bene, questo video un po' così particolare l'abbiamo concluso, tanto noi ci rivediamo nella consueta programmazione ogni giovedì alle 18.30. Vi aspettiamo anche su Telegram.